ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video e vai eccoci qua con un altro episodio delle reaction ai vostri video così ci guardiamo tutta una scorribanda di simpatici orologi e di simpatici presentatori improvvisati a proposito di ciò vi ricordo cercate di essere un pochino spigliati no concisi veloci sciolti senza incartarvi in quegli e o che insomma danno l'idea che uno non sia lento di cervello cioè che non riesca a collegare il pensiero alla parola in maniera rapida no insomma un po di svantaggio dell'idea comunque non siamo tutti uguali però il trucco è lo fate una prima volta sentite che viene così la seconda volta che lo fate viene sicuramente meglio perché avete già le idee più chiare su cosa dire quindi a parere mio ne dovete fare uno una brutta la brutta copia no senza registrare fatta quella poi registrate e fate la bella copia vi viene sicuramente meglio vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo bellissimo mido ocean star gmt detto shark perché ha questi bellissimi indici a dente di squalo con questi colori particolari con questo cinturino nato che io preferisco preferisco è strano da dire perché ha il suo bel bracciale tutto satinato quello classico del tipo il mido ocean star tribute è tipo quello lì però tutto satinato che è molto bello però con questo nato qua che è nella scatola di serie non è che l'ho inventato io è perfetto perché blu è con la stricina bianca va a riprendere il bianco del quadrante insomma è simpaticamente simpatico e io utilizzo la sfera gmt per monitorare i vari fusi orari dove si muove il circus della formula 1 in modo che so più o meno no a che punto sono ora stanno dormendo dico stanno dormendo quindi non succede niente poi si svegliano e salta fuori il patatrac la multa a qualcuno qualcuno che problemi 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 queste cose qua no mi tengo aggiornato per farlo non è che muovo la sfera interna gmt la quarta sfera la muovo all'interno del quadrante quella la lascio ferma ruoto anzi la ghiera che ha i numeroni belli grandi la porto sull'orario che mi è desiderato e così vedo il fuso orario dell'altro mondo adesso bando i discorsi inutili la barra spaziatrice qua che ci attende per subire i colpi del destino e quindi adesso glielidiamo fuoco ciao davide sono mario daviterbo di origini campane allora campane 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 e ci abbiamo questa bellissima tovaglietta con le roselline i cuoricini costruito love ma sei proprio bravo bello bello vedo solo due scatole speriamo che non siano solo faccio vedere parte della mia collezione ti anticipo che io sono un amante dei diver bravo partiamo con una giovechina ma no un loris lo russo scusa questo è un regalo affettivo non l'ho indossato mai senza che l'ho tolto l'ho messo su un altro perché mi è stato regalato dalla mia fidanzata non che attuale moglie ma i coglioni arriviamo da a vedere un qualsun non lo indosso però lo tengo per ricordo va bene poi passiamo a un simpatico orient cano questo qui è un 44 millimetri certo è un classico tool watch to watch mi ha impressionato la precisione perché mi ha preso soltanto due secondi in un'intera giornata ma beh ci sta poi il bello di questi orologi che hanno molto allume in brite quindi al buio si vedono benissimo lumi bright penso che questo non è un orologio che metterò spesso perché metterò magari qualche volta al mare se vado o in piscina adesso passiamo al mio ultimo acquisto un orologio un pochino più importante poi che è un oris o sì che sti fai col calibro di manufattura con 5 giorni di riserva di carica col suo bellissimo calibro in house 400 semplice semplice ma è lui questo addirittura già dieci anni di garanzia se oris sa quello che sta vendendo sì a dieci anni di garanzia ma soprattutto il primo il primo la prima revisione è prevista dopo dieci anni quindi non sei obbligato no ti dicessero a dieci anni di garanzia la revisione la devi fare ogni due anni è è capito e si attaccano al cliente nel senso ogni due anni ti spendi i tuoi bei centoni di revisione in modo che sia sempre in garanzia fino arrivare ai dieci anni questo caso no dieci anni di garanzia e prima revisione dopo dieci anni abbastanza onesta come cosa no avrebbero potuto anche cercare di spillare altri soldi al cliente in altro modo tenendoti legato un po come fanno le case automobilistiche con la il tagliando alla casa madre la garanzia queste cose qua non so più nemmeno se è così adesso ecco questo oris qua 65 ha la particolarità di avere la ghiera sulle 12 ore quindi qual è il bello di questo orologio secondo me è che anche più utile quasi quasi dico quasi di un gmt come questo perché visto che io utilizzo la la ghiera esterna per indicare il secondo fuso qua utilizzando la ghiera esterna la metti su quella delle ore e hai un secondo fuso approssimativo nel senso ce lo hai su 12 ore non su 24 non sapresti veramente se sono sei mattino o pomeriggio mattino o notte in quel posto dove metti in quel posto dove metti suona male in quella località nella quale tu hai impostato il secondo fuso ora mi sto un po incartando ma il concetto è molto semplice mettiamo che adesso qua sono lì in questo in questo simpatico orologio adesso sono le 11 meno 20 no sulla lancetta delle ore gli mettiamo il 2 vuol dire che nell'altro paese sono le 2 meno 20 ora ti non sai se sono di notte o di pomeriggio però con un minimo di riflessione mentale ci arrivino però volevo dire questo complimenti veramente a loro perché hanno sono riusciti a mantenere anche le 28.800 alternanze nonostante i cinque giorni di riserva bravo orologio che indosso con piacere tutti i giorni da quando l'ho acquistato mi piace questo vetro bombato in stile vintage confermo diciamo che un vintage modernizzato essi ci ho messo questo cinturino after after con chiusura dei play and perché per me è più semplice e c'è al sarlo ho anche il suo originale però per il mio corso lo trovo un po stretto perché un polso da 20 cm niente questo è un orologio che guarda che quella deploy and che è sul su questo cinturino credo la tua possa montare anche su quello originale e si allunga come diceva rocco si freddi quindi fai un po te potresti utilizzare anche quello originale che mi sembra un po che più carino di questo veramente apprezzo molto lo indosso senza avere tanti problemi senza avere tanti problemi ci piace poi passiamo al pezzo forte che è un bradling bradling avenger 43 mm top questo indosso in qualsiasi occasione certo mi piace un sacco perché a questa carrier spazzolata queste anzi lucide e anzi un po lunghi né ma è una peculiarità di questo ruolo poi di bradling bradling e bradling tutte le tutti i suoi modelli diciamo che hanno questa particolarità e io la l'apprezzo molto soprattutto col cinturino che sembrano dei denti poi ci ho ordinato anche un bracciale quello lì suo poi sarebbe con le maglie esterne satinate come la carrure e le maglie interne lucide come le anze bravo ho visto che hai recensito il modello successivo e quindi mi ha fatto notare che anche questo qui c'ha i cavalieri integrati alla ghiera e non la prenderà male ma questo mi piace un po di più perché a parte che mi piace il logo bradling che per loro è un distintivo della maison anche perché come già queste caratteristiche che ti ho detto poco anzi certo poi un'altra domanda un'altra che volevo fare prima che su questo siccome io non amo il bracciale suo che è quello con finti rivetti e ci avevo pensato siccome c'è questo stile vintage un bracciale a chicchi di riso che secondo me ci sta benissimo tu che ne pensi e fammi sapere certo comunque tanti auguri per il canale grazie tanti auguri alle donne che oggi è la festa della donna e lov e lov 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 la festa della donna quando era l'otto marzo a si ammisi ben l'otto marzo va bene ascoltami ci sta bene sì il cinturino il bracciale cinturino il bracciale a chicchi di riso ci sta bene però devi anche trovarlo quale ci metti il bracciale a chicchi di riso a caso non è detto che ci ci vada incastro non è perché una lancia le anze sono da venti il cinturino da venti il bracciale da venti e combaciano c'è tutta la forma della cassa l'altezza il punto dove vanno a infilarsi le anze a molla cioè fai delle prove dove li prendi cosa compri un bracciale chicchi di riso al buio poi lo vetti per il resto dai possiamo dire che sei promosso che quali e quali simpaticissime orologi avevi il 65 quello di bello il brightling dai dai ci siamo brightling 65 hai fatto vedere basta dai un 7 questa collezione viene viene votata 7 anche perché per per scarsità di di proposta quindi un bel set ci sta se promosso almeno quello sei contento no dai prossimo ciao davide ciao andrea da novara complimenti per il canale grazie stasera ti mostro la mia piccola collezione di orologi vai con il possego da molto molto tempo ma mi sono appassionato solo ultimamente ecco dai cerco di fare veloce ti faccio vedere quelli più conosciuti l'SKX che utilizzo con cinturino nato poi abbiamo super quarzone bull over lunar pilot questa è la versione da 43 e mezzo senza la data con la cassa lucida un orologio che utilizzo con piacere anche se per il mio polso risulta ancora risulta grande nonostante sia la versione più piccola però non mi convince ecco il problema è che si vede è tutto quadrante praticamente tutto quadrante c'è quella lunetta sottilissima di acciaio e poi la scala tachimetrica e all'interno del vetro e fa tutto quadrante così spara molto per il momento lo tengo ma ci farà un pensiero poi poi ti faccio vedere questo orologio un review tommel un marchio non molto conosciuto è commemorativo di una spedizione 1988 una spedizione alpinistica è stato regalato per un evento tipo la cresima o qualcosa qualcosa del genere fa piacere fa piacere che quel ti regalano per un evento importante ti regalano qualcosa e te ti ricordi di quel regalo e dell'evento mi farà piacere sicuramente a chi te l'ha regalato questa particolarità un quarzone come vedi si apre il vetro questa bussola solare che si muove con le con le lancette e bussola solare diciamo che come diresti te simpatico non so cosa serva questa apertura del vetro perché a mio avviso è totalmente inutile e ricordo che c'era una versione dello stesso orologio che in cui si apriva sempre parte del vetro ma sotto c'era una vera bussola insomma una variazione di questo e vabbè luna park poi c'è vedere ti mostro tre orologi che sono tre orologi di famiglia che ho tenuto che ho tenuto orologi vintage questo è un Lebois & Co un marchio che ha smesso di produrre orologi questo è un orologi anni 50 60 classicone ha smesso di produrre nel 1972 meno male era di proprietà italiana che si produceva in svizzera e il marchio è stato ricomprato nel 2014 e ha ricominciato a produrre quindi poi questo zenith modello f barra p automatico in in oro molto tenuto molto bene volevo chiederti a proposito di questo se secondo te era una versione una versione del classico cioccolatino un orologio che veniva regalato per eventi appunto tipo comunione non ho idea questa è una cassa 33 quindi più grande sicuramente di quello che ti menzionavo avere se avevi qualche notizia in merito insomma mi spiace niente piacere no poi un orologio appartenuto a mio padre è un iwc anni 80 pieno boom del quarzo quindi si produceva questi orologi al quarzo oggi sarebbe credo una bestemmia ma è un modello ingegnere sl ha questo ancora suo cinturino originale in caociu con la sua fibra iwc ha una dimensione un po particolare che diciamo non me lo fa utilizzare con molto piacere perché è un 30 mm quindi mamma mia una via di mezzo fra un orologio diciamo maschino e un orologio femminile anche insomma oggi queste categorie sono sono differenti per l'orologio però negli anni 80 era diciamo la versione di questo femminile ancora più piccola non essere già il più piccolo di dei maschili non lo uso lo tengo per ricordo poi sempre rimanendo su ivc questo orologio che usa mia moglie sempre ingegnere automatico ovviamente questo completamente massacrato perché lei lo usa come se fosse uno swatch e vabbè e a me piace molto questo orologio trovo che questa ingegner di quest'era sia più bello degli ultimi usciti quelli insomma più arrotondati e questo mi è stato cambiato un po quella quella forma iconica ecco che avevano no ma gli ultimi sono così per ultimo l'orologio che uso maggiormente è questo mule glasshutte mule glasshutte modello terra sport grosso è fatto in germania il marco io lo conosci perché ricordo che avevi fatto la recensione di un orologio uno di questi orologi credo quelli quei tool watch da immersione diciamo un orologio che mi piace molto classico avviatore ottima leggibilità movimento a vista calibro sw sw 201 e diciamo che mi piace molto l'utilizzo spesso forse l'unica pecca che è un po poco diciamo poca personalità perché questo ricorda forse troppo l'aviatore dell'ivc e volevo sapere insomma cosa ne pensavi non tanto del modello specifico ma in generale di di questo di questo marchio ti ringrazio sono tutti quelli che grazie a te ciao 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 cosa ne penso di questo marchio un marchio validissimo situato a glasshutte che praticamente è il punto nevralgico dell'orologeria tedesca no ci sono un sacco di case che sono di glasshutte e c'è anche sviluppata diciamo una filiera dell'orologeria no quindi è ben facile lavorare nel campo dell'orologeria all'interno di quel distretto diciamo così realizzano orologi veramente maschi come si vuol dire tool watch come dici te o anche pilot in questo caso il pilot non è che lo devi accusare di assomigliare all'ivc al pilot perché è proprio uno stile è uno stile di orologio di tipologia ci sono decine decine di case che fanno i pilot non c'è niente di strano ti puoi prendere anche un orient pilot gli emilton pilot l'aco archimede sto a vamp e ivc la marea di di case quindi non c'è niente di male insomma nella totalità poi dicevi l'ivc ingegnere della signora che preferisci questo a quegli ultimi ma gli ultimissimi che sono usciti ora sono così sono col bracciale integrato di questo tipo qua e precedenti quelli di un paio di anni fa erano brutti brutti a parere mio perché erano sembravano di secco 5 a vederli no gli ultimi quelli nuovissimi sono invece belli 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 però quelli della signora insomma automatico carino come 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 però non è carino quello da da 30 mm al quarto che che è tuo che non c'è non si può non si può non si può guardare 30 mm veramente veramente piccole voglia di giustificarlo quanto vuoi ma insomma dai nell'insieme di un sei e mezzo te lo meriti dai un beh se è in mezzo di incoraggiamento te lo meriti diciamo di sì dai prossimo video ciao davide ciao giuseppe da torino se volevo farti complimenti per il canale prima di cominciare grazie per i complimenti diamo un'occhiettina cos'è perché io ho visto lì qui dentro ci sono cose e mi incuriosisce no però va beh a questo punto non dircelo cosa c'è perché sennò sembra che vogliamo farci gli affari degli altri poi c'è una bellissima burago uno scala 1 40 non riesco a capire cos'è non so che macchina sia batto 2 batto 1 ma che cosa ne so sicuramente non sono cose messo a casa a caso ci vuoi fare ci vuoi dire qualcosa ma noi non riusciamo a capire cosa e ora che i complimenti te li ho fatti possiamo anche cominciare i primi due che ti presento sono orologi che ho ereditato dal mio padre sono a batteria ahia il primo è un braille maverick maverick in acciaio credo 41 mm non l'ho mai misurato senti lì come rubore non lo porto più ho tolto le batterie perché sono in fingarde come dici tu le batterie le ho tolte secondo pezzo della collezione sempre a batteria ecco un altro braille questo è un manta ha un fondimetro e cronometro l'ho usato spesso nelle immersioni non lo porto più perché poi ho capito che gli orologi devono essere automatici passiamo ai prossimi che sono automatici questo che è entrato da poco in collezione un 65 è un 7009 come movimento è un 30 70 al modello è un 36 mm dal seriale sono risalito all'anno di produzione che dovrebbe essere febbraio 82 ha la rimessa rapida della data e lo porto spesso mi piace e miglia soddisfazione prossimo automatico è un orologio che non ha bisogno di presentazioni è l'SKX 009 l'hai recensito anche tu lo porto spesso questo ho avuto la fortuna di trovarlo NOS circa sei mesi fa mi piace lo porto davvero molto spesso e che dire niente niente altro il prossimo orologio so che non ti piace molto è un venezianico è un array de gmt è del 2023 ha un nh34a come movimento mi piace molto il bracciale ha chiamato canova 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 secondo me è rifinito molto bene e certo mi piace la cassa le lavorazioni della cassa e allora e allora contento te contenti tutti bravo ultimo è un bulova ha un età 77 50 ultima acquisizione trovato NOS da un privato mi piace lo uso spesso l'unica cosa che non è tanto visibile al buio si vede gli indici hanno la pasta luminescente ma è proprio poca e si vede poco che dire niente spero che pubblicherà il video pubblichiamo sempre love 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 questo bullone qua alla fine è dimenticabile comunque si legge male perché c'ha tutti gli indici e le sfere che hanno finitura metallica finitura metallica su due quadrante grigio scuro nero con le sfere ugualmente grigio cioè l'immagino già in certi ambienti come è quasi impossibile da leggere poi c'è l'SKX che è simpatico è bello insomma dai diciamo che è una sufficienza una sufficienza per il rotto della cuffia te la diamo dai sei non sai di incoraggiamento perché non ho visto non ho visto degli sprazzi di i due i due brelli iniziali veramente da paura è secco 5 vintage carino venezianico dimenticabile bulova dimenticabile ma si ciao davide buongiorno sono abberto e oggi ti mostro la mia collezione di orologi automatici eh certo eviterò di mostrarti tutti i quarzoni per non farti perdere tempo ma no non si perde allora cominciamo in ordine cronologico dal Tissot Heritage Visodate simpatico orologio che ho acquistato credo 5-6 anni fa col senno di poi non so se adesso lo riacquisterei di nuovo però questo orologio mi riprende sai cosa che non mi piace tantissimo di questo simpatico orologio guardate le anse come sono lunghe e come il centurino parte il bracciale parte veramente lontano dalla cassa c'è quasi un dito di spazio tra circonferenza cassa e inizio del molto spazio non mi piacicchia tanto ricorda comunque quel bel momento di 5-6 anni fa in cui ero felicissimo che lo acquistai e motivo per il quale non credo di venderlo mai ok andiamo avanti con un vintage questo è un long jean le grand classic degli anni 90 ma vintage? eh non è vintage dai era di mio padre adesso è mio è 34-35 mm credo e mi piace molto da indossare specialmente con la camicia sai le situazioni un po' più formali con abiti eleganti e c'è molto carino questo orologio eh non lo metto duplo andiamo avanti con ah Citizen Tsuyosa Tsuyosa giallone e lo Tsuyosa e credo sia l'orologio per il quale ho ricevuto più complimenti in assoluto pensate da tutti gli orologi che ho è molto carino da indossare specialmente in estate e mi garba molto poi andiamo avanti con bello Oris 65 Divers bellissimo questa è una edizione limitata in 200 pezzi al mondo viene chiamata Kronos Limited da Oris ma ebbè sta qua mi è sfuggita non mi è sfuggita proprio di 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 mano non l'ho mai vista ma possibile non lo so o magari l'ho vista non gli ha dato importanza perché la ghiera praticamente come quella come la mia di bronzo però non è in bronzo con i numerini in rilievo simpatica bella e questo quadrante qua poi c'è Calibro in house non si vede dai cinque giorni di riserva ah non l'abbè ha sfuggito questo qua poiché è stata fatta in collaborazione con un giornale tedesco ah una rivista tedesca che pubblica articoli su orologi eh è 38 mm perfetto per il mio polso e il movimento è quello in house di Oris certo ha un dial pazzesco eh vedo andiamo avanti e andiamo avanti questo è bello eh anche te seco SKX non può mancare in nessuna collezione eh mo calma eh non ho molti altri commenti da fare bravo lo indosso spessissimo certo gran bello orologio ok continuiamo con un bel seco anche questo in edizione limitata credo a 3000 pezzi al mondo ispirato a un manga molto famoso di cui sono un grande fan e anche questo gran bello orologio non ha una eh visibilità eccezionale però sono troppo un gran fan di questo anime e l'ho dovuto prendere è fatto bene in cui eh è uscito ma questi orologi qua in edizione limitata come Brian May o sono stati realizzati appositamente per gli appassionati di quel dato settore no? cioè non è che io voglio prendermi un 6.5 GMT un 6.5 vado a scegliere uno di quelli lì perché graficamente è più anzi è anche più pesante graficamente parlando vado su quelli che costano magari un pochino di meno di serie normali e mi tolgo lo sfizio questi sono invece fatti proprio per gli appassionati di quel dato settore e fai bene a prenderlo io non lo comprerei mai è plausibile no? però capisco bene che ci sono coloro i quali sono interessatissimi a queste cose andiamo avanti con Rolex Milgauss topino anche questo non ha bisogno di presentazioni no era il Rolex che il primo Rolex che ho acquistato perché è favoloso ha un dial pazzesco unico con questo con questo glass sul con questo vetro sul quadrante sul quadrante a dir poco eccezionale eccezionale bravo poi poi Longin Flagship Heritage questo è 38,5 mm quasi 39 eh vabbè indici d'oro e questo è il classico dress watch un po' più grande però perché un dress watch moderno poiché 39 mm bellissimo si può considerare un orologio stupendo prezzo qualità prezzo qualità credo sia veramente difficile trovare un orologio così bello per me il quadrante è spaziale perché non è un bianco ma è più una panna panna è davvero bellissimo con cinturino in pelle di coccodrillo crema poi andiamo avanti con il secco questo mi è piaciuto l'edizione della navigator una chiave moderna questo è stato l'ultimo che ho comprato qualche mese fa appena è uscito e l'ho preso immediatamente in gioielleria orologio fantastico è veramente stupendo il primo gmt che ho comprato e sono molto molto soddisfatto molto molto soddisfatto molto molto soddisfatto bravo poi andiamo avanti con l'ultimo Submariner Submariner anche questo ha bisogno di presentazioni questo è veramente uno di quegli orologi che potresti avere solo questo in collezione e non è bisogno di null'altro da indossare in qualsiasi tipo di situazione orologio fantastico sì questo è il 124060 cioè l'ultima edizione uscita del Submariner no date e poco altro da dire veramente un orologio fantastico adesso un domandone finale per te a me vorrei avere un cronografo nei prossimi mesi sbarra anni tu cosa mi consigli tra uno Speedmaster del 57 oppure uno Zenith al 1ero crono master grazie per aver trasmesso questo video abbracci ah e cosa pensi della mia collezione ovviamente e continua così perché sei un grande love love ora no non so mi sembrava quasi un senso di deja vu di aver già visto sto video qua o perlomeno questa domanda qua averla già uno Speedmaster del 57 cosa vuol dire che devi comprare uno Speedmaster vintage del 1957 di quegli anni lì c'è uno dei primi con un costo sicuramente esorbitante che è un pezzo da collezionismo cioè da prendere e da mettere nella vetrina oppure un crono master è il 1ero nuovo presumo non c'è non capisco perché se no invece un crono master è il 1ero del 1969 no e allora lì dicevo cavolo se vuoi comprare i capostipiti di entrambi i calibri no di entrambi gli orologi ha un senso in questo caso invece te uno Speedmaster del 57 è un crono master è il 1ero non lo so non lo so scegli te non capisco secondo me c'è qualcosa che non va mi sbaglio io ti sbagli ti comunque prendi quello che ti piace di più io quando ho dovuto scegliere di spendere dei soldi per un cronografo ho preso lo Speedmaster ho preso lo Speedmaster semplicemente perché in quel momento lì era uscito lo Speedmaster che volevo io cioè quel moonwatch con il calibro costiale boh non avevo più scuse invece sul 1ero abbiamo solamente gli orologi da 42 mm no da 38 adesso 38 è un po' piccolo piacerebbe da 40 quindi nel momento in cui uscirà quello da 40 mi porrò il problema ho scelto prima lo Speedmaster che avrai un minimo di parametri da valutare per scegliere da solo e scegli da solo poi va bene nel complesso alla tua collezione gli diamo un bel 7,5 dai 7,5 con quei due bel Submariner e il Milgauss con quei due bel Seichini 7,5 ci sta tutta va bene 7,5 ciao Davide ciao complimenti per il canale grazie sono Graziano della provincia di Taranto Taranto sono appassionato di questo mondo da circa un anno uno e niente ti faccio vedere subito la mia collezione vai partiamo con il Citizen Promaster Marine bello lo suo quadrante giallo Degradè Senape su bracciale di ottima qualità si sa il rapporto qualità presto di questo orologio spettacolare spettacolare si non l'ho mai recensito ma ci sta andiamo avanti poi dopo il mio 6,5 sport sport simpatico anche questo ho messo questo bracciale bianco no bracciale cinturino ma perché c'è un colore di ghiera particolare sembra quel colore di cacca di piccione quel verde marrone strano lì quando mangiano le noccioline i piccioni perché anche i piccioni mangiano le noccioline si poteva scegliere un colore un pochino più che il gazzetto un po' praticamente richiama la cassa interna il colore bianco l'ho deciso ancora più sportivo bello per l'estate bello per l'estate mi piace andiamo avanti andiamo avanti che è meglio tessù si star la qualità di tessù è indiscutibile bello veramente scintillante scintillante l'unica cosa che non mi piace è il bracciale potevano fare di meglio certo però ho messo molto volentieri certo bracciale in lamiarino così in acceio sottile dai verone spettacolare massiccio massiccio di presenza di presenza oris aquis small date con il suo quadrante blu soleil non so se si nuta però si nuta si nuta sotto il sole si nuta parecchio e niente è un 45 mm 45 il tool watch no è un 500 metri di impermeabilità anche se è un 45 mm io ho un polso da 17 e mezzo 18 mm con il suo lag to lag abbastanza contenuto diciamo che mi veste bene andiamo con il prossimo e andiamo con il prossimo è un elegante il mio Eberhard Aiglon Aiglon si mi piace questo orologio qua è sempre piaciuto il palante ipnotico verde degrade soleil e il verde acido ho montato questo cinturino in pelle per renderlo ancora più elegante anche perché quello suo mi dava fastidio perché mi tirava i peli e l'ho cambiato bravo andiamo con il prossimo dai questa è una chicca che non si è mai visto nel canale ed è il mio rado capitan cook overpull no si è visto con la sua funzione GMT in base a come giri la corona si riesce a capire l'orario anche delle altre nazioni la ghiera la corona è un'altra roba carica manuale carica manuale molto sottile sottilissimo è una serie limitata a 1962 pezzi certo questo è proprio bello 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 bravo così ti voglio questo mi piace assai ma certo anche a me non ho mai avuto bene mai la recensiva il Tissot PRX ho preso il 35 mm perché veste più grande dei 36 grazie al suo bracciale integrato bello brilla il bracciale brilla spettacolare è spettacolare suo garante ghiaccio blu veramente bello bello andiamo avanti con l'unico cronografo che ho in collezione e cos'è? longin master collection bi compacts master collection così semplice meno male è la prima volta che lo vedo di solito quando vedi cronografi master collection e ci hanno un sacco di finestre finestrine fasi luna numerini numeroni no questo qua è semplice un bi compacts così questo qua c'è i secondi continui ad ore 3 ergo per cui trattarsi di un calibro letta 28 94 secondo me modulare è il longin più sottile del catalogo longin praticamente è 11,7 di spessore però su questo ti voglio fare una domanda perché su un orologio che di destino va sui 3.400 euro non li montano il vetro antiriflesso non lo so non lo so non lo so non so nemmeno se è vero quello che dici hai capito che tu dici che perché non gli montano il vetro antiriflesso sei sicuro che non ce l'abbia non lo so io non lo so però so per certo che il longin l'antiriflesso il trattamento almeno sul lato lo offre quindi non posso fidarmi di quello che dici te non lo so questione stilistica oppure perché non lo so vogliono risparmiare ma ora se ti fai questi movimenti qua con la luce dietro che è sparata così non è che perché ci sono i riflessi vuol dire che non c'è il trattamento antiriflesso non è che il trattamento antiriflesso elimina tutto i riflessi ci sono meno delle altre situazioni ma ci sono dietro c'è la luce c'è andiamo avanti con l'ultimo ed è sicuramente più bello più iconico di tutti ed è il mio rolex explorer ultima referenza da 40 mm che mi veste alla grande ed è bellissimo per la sua semplicità perché anche diciamo il fatto che l'ho pagato al listino da concessionario senza svenarmi dai reseller quindi molto contento molto contento bello l'explorer bellissimo e niente grazie di tutto grazie a te spero che pubblichi il video dai pubblichiamo continua così che sei un grande grazie grazie a te ciao 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 l'explorer da 40 nuovo di pacca bello bella sei non credo di averlo mai provato da 40 mm non so quanto più grande di quello da 39 possa risultare non ne ho idea io ce l'ho da 39 tutto sommato va bene diciamo che la tua collezione si merita un bel sette e mezzo forse sette e mezzo è troppo sette dai un bel sette un bel sette tondo un bel sette tondo che c'è un bel no però è un bel sacco di orologi belli no eberhard loris e radover po cosa sono a dire di suprx sette e mezzo sette e mezzo non te lo toglie nessuno su quellongine lì dell'antiriflesso non ho idea comunque però hai detto che è sottile è abbastanza sottile quindi mi viene da ribadire il fatto che sia grazie al calibro modulare che per assurdo anche se hai due pezzi è pur sempre più sottile rispetto a 7750 integrato automatico bello mi piace quello quello c'è lì dai sette e mezzo e tutti a casa vai ciao davide ciao federico ho 26 anni e ti mando questo che è il secondo secondo video diciamo un aggiornamento della della mia piccola raccolta e negli anni da quando iniziato a collezionare orologi mi sono passati tra le mani tanti tanti orologi dei più disparati marchi spesso li ho venduti per acquistarne anche uno solo magari dando un po' di differenza per acquistarne uno un pochino più più di pregio uno degli orologi che però è rimasto da sempre con me acquistato circa quattro anni fa è stato questo seiko skx c'è fatto bene che non ha bisogno di presentazioni perché chiaramente lo conoscono tutti è il diver più diciamo forse non il più iconico ma quello più uno dei più conosciuti e riconosciuti di seiko ma ora mi sembra a me che non vorrei dire che a stranere mai tutti i video di oggi c'era almeno un seiko skx o mi sbaglio forse uno o due però c'è un sacco ognuno degli amici qua il seiko skx piace piace la gente che piace dopodichè ho deciso di acquistare questo Longin Hydroconcast 41 bravo colorazione verde verde perché secondo me è un pochino più particolare rispetto agli altri la qualità è altissima quella percepita e l'unica cosa mi sta un pochino al limite perché ho il polso da 15 e mezzo 16 e la misura da 41 è un pochino un pochino troppo 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 per me però il problema è che non lo fanno verde nella misura da 39 se non sbaglio lo fanno solo blu e nero e per questo diciamo lo tengo e non sono passato a quello da 39 capito ci sta dai 41 dopo di che ho acquistato questo rolex explorer 1 qualche anno fa e questo l'ho acquistato perché cercava un orologio rolex da portare indossare spesso che non fosse troppo troppo vistoso diciamo ecco è un 114 270 del 2005 full set e bello questo qui veramente bello e la cassa da 36 a mio avviso perfetta per per un polso da 15 e mezzo 16 se lo dici tu poi l'ultimo che ho acquistato questo tutor preso un mese fa questo e l'ho visto per la prima volta l'anno scorso a merano in una vetrina e me ne sono innamorato l'unica cosa era il bracciale la cassa in titanio che mi spaventava un pochino però poi dopo quando l'ho provato l'ho fatto mio l'orologio si è vero che è leggero e potrebbe sembrare diciamo un pochino più economico di quello che è per la sua leggerezza ma in realtà quando lo si indossa si percepisce la qualità altissima dell'orologio questa chiera è fantastica perché ha questa finitura così tipo spazzolata verticalmente è bellissimo e tutor è veramente tanta roba è tra l'altro è il mio primo tutor bravo e poi questo Rolex Submariner 16613 del 1991 acciaio e oro con il quadrante altrizio e quadrante che spesso vira il suo colore verso il viola in base alla luce e bello questo qui è diciamo uno dei primi traguardi che ho raggiunto a 23 anni e rimarrà credo per sempre con me perché semplicemente lo amo ora ti hai preso lo ribadisco come al solito del 91 hai speso dei soldoni per prendere un orologio del 91 non ti si può dire niente piace bello un Submariner acciaio e oro mi piace poco però lo capisco così come del 2005 l'explorer insomma vedo che quando c'è da spendere tanti soldi cioè comprare orologi vai sul secondo polso sul vintage in modo da risparmiare però non è una cosa che fa per me ad esempio se io dovessi prenderli almeno secondo polso ma 4-5 anni al massimo semi nuovi mi piacciono poi c'è il l'orologino del nonno che ha questo lungin calibro 30 L di cui ho richiesto anche l'estratto l'estratto d'archivio da lungin sì però la corona qua sembra una botte sembra una botte guarda com'è grossa non è mica la sua quella lì sono stati rapidissimi proprio a inviarlo questo qui all'inizio quando mia nonna me lo diede andava veramente male andava un minuto e mezzo due minuti avanti e te lo feci vedere anche a te nel primo video che ti mandai e tu mi hai consigliato ovviamente una revisione e l'ho fatto revisionare e ho mantenuto il quadrante suo originale sì ma anche le sfere non sono c'è qualcosa che non va perché una è una sfera quella delle ore a sfera alfa quell'altra è a bastone sono anche di colore differente le sfere non sono originali la corona è lo stesso guarda come spunta nel senso che non l'ho fatto diciamo ripulire o lucidare non so insomma quale lavorazione si fa e per pulirli e l'ho fatto lasciare così com'è adesso è perfetto l'unica cosa chiaramente la corona che come si vede non è la sua originale ma è stata sostituita molto probabilmente da mio nonno che adesso ovviamente non c'è più e nulla è bello mi fa sempre un gran piacere indossarlo anche soltanto averlo qui con me poi c'è il il padre della 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 mia ragazza mi ha dato da poco questo eberhard extra fort non ho capito ancora con quale formula nel senso che ho detto tienilo oppure vendilo non lo so per ora sta qua e ho un po studiato diciamo su questo orologio ovviamente una delle prime cose che che salta all'occhio è che ha le anse fisse che non ha le spring bar quindi credo che trovare un cinturino sia abbastanza complicato il cinturino suo che diciamo che aveva era completamente distrutto quindi l'ho tolto te lo fai fare artigianalmente oppure ci sono anche quelli economici che si infila dentro un lembo e poi si va a ripiegare con dei pezzettini di metallo che è veramente una soluzione economica oppure ci metti uno una striscia di pelle tipo nato single pass che fa di così che entra dentro esce di là di pelle che perlomeno sembra classico no perché il nato è un po sportivo però al colpo d'occhio può sembrare un cinturino classico in pelle fastidio non lo dà è un crono a carica manuale è extra forte la particolarità anche che ha praticamente un crono se non erro è monopulsante perché praticamente si azzera con lo stesso pulsante questo all'inizio credevo fosse finto invece praticamente si avvia così e si può fermare il cronografo traslando il tasto verso l'alto e verso il basso si riavvia certo e poi si può resettare e ovviamente la prima cosa che ho fatto sono andato a premere ovviamente non non succedeva nulla il quadrante ristampato perché ho parlato con diversi diciamo persone più diverse persone più esperte di me mi hanno detto che è un quadrante ristampato e la sfera dei secondi della secondina è diversa da quella dei minuti cronografici quindi anche quello diciamo che è indicativo e dopo di che l'orologio è monta al calibro 1600 eberhard derivato da valgiù bello mamma mia guardale come riempie la cassa e con questo ho finito e se ti posso chiedere davide di salutare il mio amico valerio che è un appassionato di orologi come a noi grazie come al solito per la tua attenzione e per i tuoi contenuti ciao davide ciao 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 a te e ciao all'amico valerio appassionato di orologi come noi bu questa collezione quasi merita diciamo un otto e mezzo non è che sia migliore delle altre nel senso di ci sono belli orologi qui i due rolex il peragos del tudor logine per l'amore del cielo ma proprio anche per l'approccio tuo all'orologeria con il fatto anche con quest'ultimo eberhard extraforto con il logine del nonno insomma ti meriti un bel otto e mezzo perché sono tutti orologi degni di essere posseduti come diceva cicciolina lei era posseduta no va bene dai boh ragazzi mi sembra di aver detto tutto io vi ringrazio per essere arrivati fino qua e spero che vi siano piaciuti i video o il presentatore o l'orologio del giorno del presentatore e non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao